Ora si registrerà la conferenza. C'è anche questa vocina che mi piace molto. Allora, buonasera a tutti. Di nuovo io con grande piacere vi do il benvenuto a questo nostro secondo webinar d'inverno, d'inverno-primavera. Questa sera ci occupiamo di twinning e twinning per l'innovazione in particolare e abbiamo con noi due colleghe amiche molto molto care, ma sicuramente molto care, ma soprattutto molto conosciute nell'ambiente di twinning e nell'ambiente di Erasmus. Quindi approfittiamo di questa loro presenza per fare domande, per avere chiarimenti, perché sono davvero due, non solo due twinning, diciamo di prima generazione, non per un fatto di età, ma per un fatto di essere state fra le prime a lavorare con la piattaforma twinning, ma sono due ambasciatrici twinning, rispettivamente io vado in ordine di scuola. Laura Maffei lavora all'Istituto Comprensivo 2, Arnolfo di Cambio di Colle Valdelsa e insegna lettere, mentre Annalisa Di Pierro, anche lei è un'ambasciatrice e twinning, insegna l'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci Fascetti di Pisa, si occupa di, lei è docente di lingua e cultura inglese, e fa parte dell'equip formativa territoriale per la Toscana. Io ho presentato entrambe, anche se partiamo da Laura, perché credo che poi ci sarà un passaggio di microfono interno, comunque diciamo che iniziamo sicuramente da Laura, a cui do molto volentieri, cedo il microfono e la webcam, io chiudo il microfono, se avete bisogno di me sono qui. A te Laura. Allora, io intanto vi chiedo se si vede bene, così posso sapere se si vede benissimo, Laura. Si si, scorri benissimo. Allora, perfetto. Allora, intanto mi presento e vi dico un po' ciò di cui vogliamo parlare questa sera, abbastanza brevemente, credo che sarà un incontro, spero insomma, non noioso, Allora, io insegno alla secondaria di primo grado, ci ho insegnato per gli ultimi vent'anni, è un istituto comprensivo il mio, un istituto comprensivo di recente istituzione, quindi siamo ancora nell'onda dell'entusiasmo del lavorare insieme in continuità tra primaria e secondaria di primo grado. Mi occupo anche, ovviamente sono i twinner, per l'ambasciatrice per la Toscana, sono in e-twinning dall'inizio dell'azione, dal 2005, e mi occupo da sempre di progetti in partenariato europeo, in particolare per il Central Support Service di Bruxelles, mi occupo di helpdesk, quindi mi occupo di accompagnare gli insegnanti nell'ingresso, diciamo, di e-twinning. Ho pensato di iniziare così con una apertura, ci siamo interrogate insieme con Annalisa, visto che il pubblico di questa sera, insomma, la discussione di questa sera arrivava tra persone sia di diversi ordini di scuola, sia di diversi gradi di coinvolgimento in e-twinning, molti totalmente nuovi, molti già registrati, immagino anche qualcuno con dei progetti in corso. Allora abbiamo articolato il nostro intervento di questa sera, partendo proprio dall'inizio, dall'ingresso in e-twinning, e poi per crescenti gradi di coinvolgimento e di, diciamo, specializzazione delle domande. Quindi se anche iniziamo e vi trovate qualcosa che già conoscete, abbiate pazienza perché ci sarà il modo, visto che siamo un gruppo abbastanza numeroso, ma anche non numerosissimo, ci sarà anche il modo di approfondire quello che desiderate, e ci siamo preparati una gamma di argomenti, in ogni modo riusciamo a coprire tra tutte e due svariati ordini di scuola e anche svariati aspetti di e-twinning. Allora, ho aperto con questo, con questa immagine che uso spesso, This Way to Wonderland, perché per le persone che arrivano in e-twinning spesso l'idea è quella, la metafora che fanno più spesso è mi sembra di essere nel paese delle meraviglie. Ehm, questa è un po' l'idea, e su questo filo conduttore ho pensato di giocare. Allora, innanzitutto e-twinning, tanto per darvi un'idea di dove siete, e-twinning è nel 2005, che appunto questa azione coinvolge scuole in tutti i paesi dell'Unione Europea, perché ha avuto così successo, e nel, a partire dal Piano Nazionale Scuola Digitale, è anche inserito all'interno delle indicazioni ministeriali, perché, sostanzialmente, perché funziona. Una didattica per l'innovazione, abbiamo intitolato questo incontro, ecco, è dal 2005 che esiste, quindi, insomma, innovazione, sì, ma si parla quasi di vent'anni, insomma, sedici anni, che quest'azione riesce a rinnovarsi, perché funziona, appunto, promuove un coinvolgimento degli insegnanti e dei docenti che funziona. Ora, cosa fa? Cerca di creare una rete tra docenti, ho usato questa immagine, perché si crea il social dei docenti in Europa. Noi pensiamo tante volte a Facebook, Facebook o Instagram o Twitter, dipende da quelli che utilizzate, i ragazzini oggi ne utilizzano ben altri. Va detto, però, che, se guardate in questi social, sono pieni di gruppi di insegnanti. Sono gruppi, però, che non sono controllati da nessuno, sono gruppi nati così, sull'onda della buona volontà degli insegnanti, anche della volontà di mantenersi in contatto. Ecco, eTwinning è nato, invece, appositamente per creare una rete e aprire una strada, che è quella dell'educazione comune, su linee comuni, in Europa. Allora, due parole proprio iniziali. ETwinning nasce nel 2005, come nell'ambito dell'e-learning, all'interno di una serie di azioni che la Commissione europea mette in atto per, appunto, uniformare l'educazione all'interno degli stati comunitari. Successivamente, dall'e-learning, si è spostato nell'ambito dei partenariati, quindi in quello che prima è stato Socrates, poi LLP, e che adesso è sotto il brand di Erasmus, Erasmus Plus. Cosa significa? Come dice la parola, eTwinning è un gemellaggio elettronico. Cioè, è stato creato dalla Commissione europea uno spazio, un portale, un social, chiamatelo come volete, dove si possono registrare tutti gli insegnanti dei paesi comunitari, più alcuni altri paesi, specialmente dell'area dell'est e balcanica, e qui trovare, intanto mettere in comunicazione questi insegnanti, che possano parlare tra loro, incontrarsi, collaborare, come attraverso dei forum, se voi vi immaginate, chi non è già dentro, se si immagina come Facebook, l'idea è quella, soltanto, probabilmente più user friendly, con dei forum, con degli ambienti, delle stanze, create per la comunicazione degli insegnanti, poi, per creare spazi, per creare dei progetti tra scuole diverse in Europa. Se pensate a quello che è stato Erasmus, io sono della generazione Erasmus, originariamente era aperto per gli studenti dell'università e permetteva di viaggiare in Europa e di conoscere altri studenti, studiare in altre università, ecco, questo è stato ampliato, ampliato fino a partire dalla scuola materna, in sostanza, perché il tweening è un gemellaggio virtuale. Quello che oggi per noi è così scontato, cioè di incontrarsi attraverso il computer, è scontato dagli ultimi due anni e mezzo, in sostanza, non era così precedentemente, il tweening percorreva i tempi, in questo senso. In questo momento, diciamo che è affiancato a Erasmus. Alcune attività si fanno solo attraverso i tweening, altre possono essere collaterali o può essere un modo in cui chi fa un progetto Erasmus poi può continuare a collaborare nell'ambito di tweening. Allora, io vi faccio vedere una cosa fondamentale. Allora, chi è già dentro lo troverà una cosa banale, però ve la dico lo stesso. Come funziona? Per qualsiasi, come per qualsiasi social, la prima cosa è registrarsi. Io mi registro. Il canale dove mi registro è www.e-tweening.net. Questo è il portale europeo, cioè la Commissione Europea ha creato materialmente questo spazio. Qui io mi registro, vi chiede se non siete già registrati, viene verificato. Existe però anche un altro portale che è quello nazionale. Cosa significa? Che a livello centrale il Central Support Service di Bruxelles gestisce l'intero e-tweening per tutti gli stati comunitari. Poi, come per Erasmus, ogni stato ha la propria agenzia nazionale che per noi è una parte dell'Indire e il nostro sito nazionale è indire.it, e-tweening, indire.it. Allora, da www.e-tweening.net mi registro, entro, lavoro, sviluppo le mie pagine, poi dopo le guardiamo insieme. Su e-tweening, indire, vedo le iniziative che vengono fatte a livello nazionale. quindi se danno dei premi, se ci sono dei corsi di formazione, se ci sono, ora non ci sono in questo momento, ma non saremo sempre in tempo di pandemia, ci sono stati una specie di, diciamo, borse, di percorsi pagati all'estero per gli insegnanti, per andare a conoscere altre scuole, altre realtà, creare dei progetti. E questo è il portale europeo, è così almeno per ora, poi avrà un restyling, perché viene unito a altre azioni della Commissione europea, ma ancora la cosa è vicina, ma non vicinissima. Comunque questo è il portale europeo, come vedete è articolato con tante sezioni, con la calma uno se lo fa. E questo invece è quello nazionale, questo è il twinning indire, è appunto una parte dell'indire. Se guardate, qui dà delle informazioni generali, cos'è il twinning, ci sono le buone pratiche, chi sono gli ambasciatori sul territorio per aiutarvi, se ci sono corsi di formazione, premi e riconoscimenti, eccetera, ci sono anche i contatti. La nostra agenzia nazionale, essendo l'indire, sta a Firenze, è anche estremamente attiva e quindi se uno ha un bisogno, effettivamente è molto facile contattarli e essere aiutati. Ecco, la caratteristica di twinning è questa, che non si è mai da soli, c'è sempre qualcuno che ci accompagna. Cosa offre una volta che siete dentro? Allora, immaginate di fare il login, di entrare dentro, come in qualsiasi social in cui siete, che opportunità vi offre? Allora, collaborazione e sviluppo professionale significa che fanno dei corsi di formazione, che sono riconosciuti ovviamente anche dal mio web, e quindi di vario genere. Tanto più interessanti ora, è vero che adesso siamo tutti un po' arrivati in tema di incontri online, corsi di formazione online, e corsi di formazione per l'utilizzo degli strumenti online. È vero però che questi sono innovativi nella misura in cui sono strumenti pensati per la collaborazione, cioè dall'altra parte c'è veramente un insegnante di un'altra scuola in Europa che condivide qualcosa con noi. E Annalisa che è qui con me, Simona, vi potrebbero confermare quante volte ci sentiamo dire mi trovo meglio con il collega dell'Ungheria che con quello che sta nella stanza accanto. Quindi tante volte ci si incontra con delle persone che condividono i nostri stessi interessi e si stabiliscono dei rapporti di collaborazione di lunga durata. E questo è un bonus del corso di formazione che mi viene fatto. Riconoscimenti, ovviamente, chi lavora bene all'interno di Twinning riceve dei premi. Questi premi sono sia per i ragazzi sia per gli insegnanti. Una cosa che mi piace tanto è che i progetti che hanno successo non viene solo data una stretta di mano all'insegnante o il diplomino all'insegnante ma vengono mandati dei materiali che sono per la scuola, per i ragazzi a seconda dell'anno. Per esempio, noi abbiamo vinto tanti anni fa quando abbiamo vinto la prima volta addirittura abbiamo portato i ragazzi abbiamo vinto la possibilità di portare i ragazzi a visitare i loro partner in Ungheria. Ora sono anni che questo non viene più fatto però per esempio un'altra volta abbiamo vinto delle lavagne multimediali da mettere in classe altri anni sono state vinte stampanti in 3D quindi vengono veramente premiate le classi che hanno lavorato bene. Self-teaching materials sono dei tutorial che uno si guarda con calma quando vuole e poi la cosa più bella posso trovare i partner per i miei progetti per i miei percorsi ora questo ve lo dico dopo Ispirazione e kit di progetto vuol dire che per chi dovesse essere nuovo e non ha un'idea ci sono dei kit come fare a iniziare un progetto di twinning posso trovarlo lì e poi i gruppi i gruppi sono delle stanze dove gli insegnanti si trovano per discutere argomenti di interesse comune quindi c'è quello del gruppo degli insegnanti di lingua inglese di lingua francese un gruppo sulle nuove tecnologie un gruppo sulle pari opportunità uno addirittura sulle lingue classiche quindi dipende e detto questo se ho bisogno d'aiuto entro in questo mondo che io ora vi sto presentando solo dall'esterno ma fidatevi tra qualche minuto vediamo anche l'interno se ho bisogno d'aiuto allora sul sito nazionale quello di twinning in dire c'è un ambito formazione e supporto dove vengono date c'è un help desk quello nazionale dove vengono date tutte le informazioni che potete desiderare a volte basta scrivere basta mandare una mail altre volte ci sono le FAQ da leggere sul portale twinning europeo c'è una pagina di supporto e poi c'è l'help desk l'help desk europeo è quello di cui mi occupo io insieme a altre due colleghe siamo tutte italiane ma l'help desk è ovviamente per tutti per tutti i paesi comunitari e si chiama Virgilio non si chiama help desk si chiama Virgilio in introduction to e-tweening essendo italiani non vi devo spiegare perché l'help desk abbiamo scelto di chiamarlo Virgilio a Bruxelles con Virgilio ma insomma l'idea è quella di accompagnare per mano come Virgilio con Dante gli twinners all'interno della galassia delle opportunità che i twinning può offrire e niente mi è piaciuto mettere questa immagine ora voi magari la vedete piccola di Alice che guarda lo stregatto e lo stregatto gli ha appena detto guarda che vai fra dei matti e Alice gli dice but I don't want to go among mad people e lui gli dice oh you can't help that we are all mad here I'm mad you are mad quindi un'impressione che tutti quelli che sono dentro a un certo punto sono un po' matti e in realtà non sono matti sono appassionati di quello che si può fare insieme e se vi date tempo vi ricordo che se vi registrate e poi non avete voglia come per qualsiasi sito vi registriate non succede assolutamente niente a un certo momento dopo un tot di mesi di inattività il vostro profilo prima si diventa inattivo e poi viene depennato ma soltanto il vedere quante opportunità ci sono all'interno è abbastanza è abbastanza motivante è entusiasmante e è motivante per noi è motivante anche per i ragazzini perché permette ai ragazzi di lavorare con i loro coetanei in Europa e di vederli davvero prima magari solo attraverso il forum ora che siamo tutti capaci attraverso le videoconferenze eTwinning ha integrato uno strumento di videoconferenze che è Adobe Adobe Connect in realtà noi non lo utilizziamo molto preferiamo usare Meet ognuno utilizza ormai tutti ci siamo dotati a scuola di uno strumento per le videoconferenze e stesso la situazione è uguale in tutta Europa insomma ragazzi io non insegno lingue insegno lettere però la lingua di comunicazione è spesso l'inglese e io vi assicuro che le mie colleghe d'inglese all'inizio erano tutte molto reticenti poi quando hanno visto i ragazzi di fronte ai loro partner che si arrampicano sugli specchi pur di comunicare con quello che sta di là e che vedono dal vivo tutti hanno deciso di partecipare tutti partecipano volentieri cioè il il pro veramente la cosa di twinning che è insuperabile è che permette di mettere ai bambini i ragazzi magari voi ce li avete grandi se siete alle superiori e forse quelli delle superiori hanno più opportunità ma in primaria e alle assolutamente no e alle medie così e così cioè ci permette di mettere i ragazzi nella condizione di utilizzare la lingua perciò per la quale la lingua è nata cioè comunicare altrimenti alle primaria molto spesso e spesso anche alla secondaria le lezioni di lingua diventano una recita inventatevi un dialogo te e il tuo compagno e quelli si sentono imbarazzati perché due italiani si trovano a dover far finta di parlare in inglese oppure scrivi la lettera all'amico che non esiste ecco e-twinning ti mette in condizione di scrivere lettere a un partner che esiste e di parlare faccia a faccia con un partner che esiste e che anche lui si sta arrampicando per cercare di parlare inglese con te è estremamente motivante per noi specialmente a primi tempi per noi insegnanti è motivante vedere l'insegnante che ci sta davanti in un altro paese e vedere le strategie che mette in atto che molte sono simili alle nostre ma non tutte quindi è abbastanza appassionante bisogna essere un po' matti perché allora non non costa nulla non si guadagna nulla nel senso che le ore in più che fate per gestire questi progetti sono eventualmente pagate col fondo d'istituto non è come Erasmus che ha un finanziamento è vero però e io vi consiglio di fare così che non dovete fare niente di nuovo dovete fare cioè potete vi dà l'opportunità di fare meglio più in grande ciò che state già facendo quindi tutti noi siamo bravi a progettare alla primaria alla secondaria di primo grado e anche la secondaria superiore ma io parlo più per l'ambito mio che è primaria e secondaria di primo grado siamo professionisti del progetto e di progetti curricolari cioè non è che parliamo di cose che non c'entrano niente con ciò che vogliamo fare quindi io dico sempre i nostri progetti allarghiamoli nella dimensione europea mettiamoci dentro facciamo quello che siamo abituati a fare ma con in più la prospettiva europea uniamolo a un partner europeo e vediamo che assume un'altra un'altra profondità ciò che stiamo facendo cosa ci serve per fare questo è quello che vi stavo dicendo ma è più senza contatti è necessario avere dei contatti come in qualsiasi social questo è l'interno dove vi troverete anche voi o vi siete già trovati se siete iscritti partner forums ci sono dei forum dove io scrivo la mia idea progettuale e raccolgo partner fidatevi si trova sempre una grande risposta ora poi in questo momento dove l'Europa è bloccata dentro le classi chiaramente il desiderio di evadere è molto forte io sono ora lascio poi alcuni esempi io sono un'esperta di progetti in continuità cioè negli ultimi anni mi sono specializzata in continuità tra primaria e secondaria di primo grado io dico sempre partiamo con un cavallo di battaglia cioè chiedo sempre ai colleghi di iniziare con qualcosa un progetto un'attività che già sanno fare bene un tema semplice ovviamente rispondente ai bisogni degli alunni poi in base a questo cercare un partner quindi ho un'idea progettuale voglio cercare un partner per questo è necessario pianificare fare un calendario perché quando lavoro ma il calendario ce l'abbiamo già qualsiasi progetto facciamo è necessario che questo calendario sia condiviso con i partner e quindi devo pianificare delle attività che siano semplici sostenibili con cui lavorare insieme devo tenere in ordine il mio spazio e ora ve lo fa vedere la collega e devo fare delle attività collaborative che vuol dire vuol dire che gli alunni devono davvero lavorare insieme cioè non gli posso far vedere la foto dei partner e questi sono i nostri partner ciao bellini e questa è la loro scuola mettiamo una foto nostra e una foto della nostra scuola no devo pensare delle attività dove i miei bambini davvero lavorano con quei bambini con quei ragazzi stranieri e ora ve le fa vedere anche qui analisa non vi anticipo niente e poi attenzione ai tempi io mi sono resa conto che sia per la pandemia sia per il fatto di inserire scuole che sono all'estero bisogna scegliere tematiche che siano adatte per tutti a più livelli dalla primaria alla secondaria nel mio caso e poi confrontarsi sui contenuti e sui tempi che vuol dire che stiamo a maglie molto larghe prepariamo un numero di attività limitata perché si potrebbe non farcelo a seguirle tutte e perché le mie festività per esempio potrebbero non coincidere con quelle di altri paesi europei e quindi pianifichiamo tenendo conto dei bisogni di tutti e ora lascio la parola a analisa che ci fa qualche esempio ho messo qui la chiave da cui si vede wonderland e arriva analisa ora scusatemi vi ringrazio della pazienza e aspetto che analisa mi dia l'ok sì io sono pronta mi sentite perfetto benissimo ok allora poi ok io volevo parlarvi una volta che voi come mi ha presentato simona sono analisa di pierro insegno inglese l'istituto tecnico industriale di pisa sono in e-twinning dal 2008 e sono sempre più entusiasta e sono sempre più contenta di poter di aver conosciuto di poter lavorare tramite questa piattaforma diciamo che l'entusiasmo non è mai passato non si è mai affievolito è sempre molto molto vivo per tutte le motivazioni che vi ha detto Laura ora e anche per tante altre dunque quando deciderete di intraprendere un progetto e-twinning una cosa molto importante prima di iniziare il progetto è la comunicazione fra i partners cioè fra le docenti o i docenti delle altre scuole con cui deciderete di intraprendere il progetto come vedrete in seguito e come vi ha già mostrato in una slide che vi ha mostrato in precedenza Laura c'è la possibilità di contattare i partners nel forum dei partners nell'interfaccia del portale una volta presi quindi accordi con i partners tramite e-mail e-mail che possono avvenire sia all'interno del portale che anche tramite i nostri account personali una volta quindi che è stato organizzato il partenariato è possibile quindi scambiarsi delle idee dei suggerimenti su come si svolgerà il progetto tramite per esempio nelle pagine proprio del Twin Space come vi ho mostrato in come vi mostro in questa slide in questo progetto che si chiama i safety i i docenti hanno condiviso le loro proposte sulle attività da far svolgere ai ragazzi in questo linoit che è un programma molto simile al Padlet questo quindi è un modo per prendere degli accordi puoi scorrere Laura grazie appunto il progetto di cui vi parlo i safety è un progetto che io ho svolto l'anno scorso all'interno delle ore di educazione civica perché la cosa positiva un'altra cosa positiva dei progetti Twinning è che si possono adoperare diciamo sia per le lezioni di educazione civica ma anche per il PCTO per le superiori sono veramente molto duttili si possono intraprendere progetti su qualunque materia sul latino sull'aeronautica sulla meccanica su qualunque argomento e volevo aggiungere ora una cosa prima di andare avanti volevo aggiungere una cosa a cui mi ha fatto pensare Laura mentre parlava quest'anno per i neoassunti non so se qui tra noi oggi ci sono dei neoassunti ma proprio per i neoassunti era prevista nella circolare del ministero la possibilità di intraprendere un progetto e-twinning che sarebbe stato valido per per il test finale dei neoassunti questa è una cosa in più proprio perché i twinning veramente insomma il ministero ha capito ha compreso la validità di questa piattaforma e fra i gruppi che ha citato Laura prima volevo segnalarvi il gruppo che io gestisco che è in inglese e si chiama metodologies and digital tools in cui si trattano appunto varie metodologie e gli strumenti digitali che si possono adoperare per queste metodologie dunque dicevo è utile decidere chi fa che cosa all'interno del del parternariato quindi per esempio vi ho messo questa questa immagine di questo documento google documento drive in cui sono stati segnati gli argomenti topic i compiti quello che si fa durante quell'argomento quali sono gli strumenti digitali che si possono usare e chi sono i docenti responsabili di quella parte di progetto questo è molto utile a mio avviso per avere ben chiara l'organizzazione di tutto il progetto cioè ci vuole una buona programmazione poi è chiaro che durante lo svolgimento qualcosa può sempre mutare essere cambiata a seconda delle esigenze però è bene avere inizialmente una bella struttura quindi prendere accordi con i partners su come si svolgerà il progetto sia a livello quindi di argomenti sia a livello di compiti puoi andare avanti Laura grazie un'altra cosa molto importante appunto come accennava Laura è la collaborazione fra studenti cioè la collaborazione deve essere vera reale cioè un'attività per andare avanti ha bisogno deve avere bisogno della della partecipazione di un altro di un altro partner di un altro studente in questo caso quindi noi in questo progetto i safety avevamo pensato di preparare delle interviste e come vedete qui in questa slide in questo screenshot avevamo partendo da un video avevamo deciso i personaggi del video che sarebbero stati intervistati chi faceva le domande fra le varie scuole e chi avrebbe risposto a queste domande e quindi avevamo creato in questo padlet avevamo inserito degli avatar per evitare di mettere per questioni privacy perché il twinning è molto attenta alla privacy sia dei dei docenti che degli studenti scusate avevamo quindi deciso di creare degli avatar e quindi domanda numero 1 domanda numero 2 domanda numero 3 e poi le risposte risposta numero 1 risposta numero 3 avevamo scritto nella speech bubble nella nuvoletta la domanda e ugualmente il Laura vai avanti con la slide ecco e anche qui c'erano le risposte ecco risposta 1 risposta 2 risposta 3 questa era l'immagine del personaggio del video che dava la risposta e questo questa attività in particolare era proprio sul bullismo quindi avevamo visto un video sul bullismo e i ragazzi si erano interrogati avevano trattato questo tema del bullismo un altro strumento di collaborazione è questa mappa concettuale che si chiama cogole in cui è possibile vedete tutti questi questi pallini colorati che ci sono in alto a destra sono tutti i partecipanti quindi i docenti inseriscono gli account di posta preferibilmente posta istituzionale quindi della scuola i ragazzi che poi lavoreranno collaboreranno nella mappa concettuale quindi ognuno e si può lavorare nello stesso momento in contemporanea quindi i ragazzi vedono veramente organizzandosi ovviamente stabilendo a quella tale ora di quel tale giorno lavoriamo sulla mappa concettuale i ragazzi delle varie nazioni possono vedere i loro coetanei che lavorano sulla sulla mappa quindi anche questo è un altro strumento collaborativo l'ultimo strumento collaborativo che vi voglio mostrare nella prossima slide è il forum come vedete nel Twin Space il Twin Space è l'area di progetto l'area in cui si lavora si crea il progetto ci sono le pagine ci sono i materiali poi ve ne parleremo in maniera più approfondita in questa fra le varie opzioni di attività del Twin Space c'è il forum nel forum appunto è possibile creare delle discussioni discussioni scritte ovviamente i ragazzi scrivono i loro messaggi si decide un argomento qui vedete tutti gli argomenti su cui i ragazzi hanno scritto e come potrete notare dal numero di messaggi quello della media addiction cioè della dipendenza dai media è quello che ha riscosso più successo a cui più 94 messaggi quindi 94 volte gli studenti che partecipavano a questo progetto hanno espresso le loro idee sulla dipendenza quindi è veramente uno strumento molto utile per creare collaborazione e scambiarsi idee all'interno del progetto ora passo di nuovo la parola a Laura e poi vedremo se ci sarà tempo per andare ancora avanti certo sì sì allora io sono molto veloce e vi volevo dare solo qualche idea di progetto però prima ho visto già che nel modulo delle domande ci sono delle domande e siccome sono di risposta abbastanza veloce vorrei rispondere a quelle allora la prima domanda mi dice come possiamo trovare delle buone pratiche in e-twinning per poter sapere quali sono i requisiti per avere dei riconoscimenti allora buone pratiche c'è proprio una sezione buone pratiche anche sul sito nazionale e ci sono tanti esempi proprio con il kit con i documenti eccetera per sapere invece quali sono i requisiti per avere riconoscimenti allora alla fine del progetto alla fine se uno vuole non è obbligatorio la soddisfazione viene dal progetto ma se uno vuole se uno si rende conto di aver fatto un buon lavoro può fare la domanda l'application per il certificato di qualità quando si fa la domanda per il certificato di qualità sostanzialmente è un modulo da riempire in cui vengono richieste delle informazioni sul progetto che si è svolto quando uno fa riempire questo modulo già vede quali sono i requisiti che si devono avere fanno determinate domande e queste domande devono essere avvalorate da quello che si vede sul TwinSpace cioè il progetto deve essere visibile e uno non può dire i ragazzi hanno collaborato in tutte le fasi del progetto e poi si va a vedere sul sito e non c'è niente quindi vengono richieste sono per esempio un certo livello di collaborazione i ragazzi devono avere fatto dei prodotti condivisi una certa qualità nella comunicazione tra gli alunni e tra gli insegnanti per esempio sul forum è visibile una certa attenzione alle safety quindi si devono essere fatte delle messe in atto delle attività per cui i ragazzi si rendano conto di come muoversi in sicurezza sulla rete ci deve essere una certa forma di disseminazione con chi ne ho parlato l'ho condiviso come quindi una serie di criteri che però vengono esplicitati all'atto in cui si fa la domanda vengono esplicitati quando la signora afferma che ci sono dei riconoscimenti per i ragazzi intende per quanto riguarda un prodotto didattico un progetto presentato ok il riconoscimento va al progetto e all'insegnante non ve l'ho detto ma ricordatevi che e-twinning è nominativo per insegnante quindi un errore che viene fatto spesso errore ve lo dico perché in questo caso è davvero un errore si iscrive un insegnante solo pensando di rappresentare tutta la scuola poi magari ci lavorano in tre o quattro quello vince un premio il premio lo vince solo lui quindi in realtà la vostra iscrizione è nominativa è vostra se state lavorando con un collega si deve iscrivere anche il collega altrimenti un eventuale riconoscimento cioè ai fini di e-twinning esiste solo la persona che è registrata che fa login non esiste che uno si registra per la scuola registra se stesso il premio va a quel progetto e il progetto il premio spesso è pensato per i ragazzi dalla cosa più banale se si riceve il certificato di qualità senza vincere nessun premio vengono mandati dei gadget ai ragazzi se si vince un premio in genere l'oggetto del premio è un oggetto che i ragazzi possono utilizzare in classe ecco negli ultimi anni almeno è stato così più semplice allora quella dopo purtroppo un giorno con esperienza e formazione mi piacerebbe diventare ambasciatrice ai twinning potete raccontare il vostro percorso per ottenere tale titolo allora questa è una domanda che in questo momento non ha risposta allora il percorso è semplicemente che c'è un bando ogni due o tre anni insomma ci sono dei bandi ci sono stati dei bandi in questo momento non c'è un un bando perché gli ambasciatori twinning si sono trasformati in ambasciatori erasmus e non non sappiamo ancora come verrà è stato fatto un bando insomma ecco per diventare ambasciatore erasmus probabilmente l'ambasciatore e twinning solo e twinning momentaneamente non ci sarà quindi ogni tanto verificate se farete esperienza se vi piacerà continuare in questo ogni tanto verificare su indire se ci sono dei bandi perché vengono presentati lì è un momento questo di transizione più semplice è la domanda successiva che mi dice nel momento in cui sono andata a creare le prime pagine sul twin space la piattaforma scrive in automatico la pagina in bozza sì questo è un problema di semplice soluzione allora ora non ho davanti un twin space ma quando la pagina vedo che mi è stata messa anche una uno screenshot quando cliccate sulla pagina e gli date modifica per togliere la bozza cioè anche se riempite il contenuto ma vi continua a comparire bozza è perché in basso a sinistra vi dice a chi è visibile questa pagina finché mettete che questa pagina è visibile solo agli amministratori del twin space resta in bozza se la mettete a tutti quelli che sono nel twin space vi diventa normale visibile definitiva cioè dovete solo cambiare questo set cioè proprio dice in basso a chi è visibile questa pagina Laura scusa se ti interrompo ma io l'avevo inserito nella presentazione proprio questo argomento quindi se lo vuoi far vedere puoi scorrere va bene allora tanto si vede si vede tra un minuto e vi faccio vedere questo poi affrontiamo le altre molto velocemente allora le altre che sono tutte specifiche su come costruire il twin space allora io vi faccio vedere per darvi un'idea dei progetti come li abbiamo costruiti noi attività di progetto curricolari cioè ve lo dico subito quando voi andate a cercare i partner di progetto se non cioè vi rispondono mettete un post voglio fare un progetto in questo caso io avevo fatto i train to europe perché perché l'ho fatto l'anno scorso anno in cui non si potevano fare gite e mi piaceva dare l'idea ai bambini di fare una gita virtuale in Europa e gite virtuali ce l'hanno proposte fino alla nausea vuoi visitare virtualmente gli uffizi vuoi visitare l'ermitage e poi metto lì e lo guardo alla televisione come un filmino e io ho pensato non li posso far viaggiare almeno li posso far incontrare degli altri ragazzi in Europa non vedranno i posti dal vivo ma i ragazzi li vedono dal vivo allora ho messo un post sul forum di ricerca partner dicendo voglio fare un progetto semplice dove i ragazzi si presentano e fanno le valigie per un viaggio in Europa e le tappe saranno le città dei paesi partner fate conto che vi rispondono 200 persone di cui moltissime dai paesi dell'est moltissime della Turchia perché in questi paesi la partecipazione ai progetti Twinning ha anche un valore proprio in termini di sviluppo della carriera come insegnante ricordatevi che se scegliete uno o due soli partner è rischioso perché se i partner a un certo punto scompaiono cosa che può succedere perché non ci sono vincoli burocratici quindi a un certo momento il partner per qualche motivo sparisce voi rimanete a piedi quindi io consiglio sempre cercate di prendere un numero congruo di partner che vuol dire entro i 10 secondo me più di 10 ricordatevi che ogni volta che mandate una mail vi rispondono voi ne mandate una e vi rispondono in 10 o 15 e poi c'è da riscrivere a tutti richiede un dispendio di tempo molto grosso questo era un gruppo grande perché perché in un anno così complicato come era l'anno scorso abbiamo detto accettiamo tutti quelli che vogliamo l'abbiamo fatto io che avevo una prima media la collega che aveva la seconda e due colleghe una di terza elementare una di quinta della primaria e l'idea era noi insegniamo nessuna di noi insegnava lingue e l'abbiamo specificato con i partner l'idea era di lavorare sul testo scritto su vari tipi ora vi faccio vedere attività di progetto curricolari cosa vuol dire allora questo è il mio Twin Space io l'ho articolato in tappe cioè ai partner ho fatto uno schema come quello che vi ha fatto vedere analisa di settembre facciamo questo d'ottobre facciamo questo di novembre dicembre facciamo questo come vedete poi siamo andati molto più avanti se vedete io ho messo il primo è sempre presentazioni e poi fare la valigia passo 1 era dicembre gennaio fare la valigia passo 2 era gennaio febbraio quindi ogni mese facevamo un'attività diversa la prima attività era presentarsi ovviamente poi il primo passo per fare le valigie un oggetto che porterei con me il secondo una persona che porterei con me poi c'era fate conto un libro che porterei con me una parola della mia lingua che vorrei portare con me e poi c'era il viaggio vero e proprio allora a cosa mi serviva a noi ci serviva un oggetto che porterei con me l'abbiamo fatto prima italiano facendo il testo descrittivo testo descrittivo l'oggetto poi una persona che porterei con me testo descrittivo la persona e via così dopodiché i ragazzi che facevano riportavano in lingua veicolare cioè l'inglese una piccola parte di quello che era stato scritto per ognuna di queste tappe io ho pensato a una piccola attività collaborativa con i partner e ora vi faccio vedere di che tipo allora intanto i forum si sono parlati nel forum perché? perché nessuno di noi insegnava inglese e quindi ci voleva o che loro ci si mettessero da sé a casa e questo è molto semplice perché se entrano dentro non possono fare nessun danno scrivono e basta non possono cancellare l'utenza dell'alunno è molto limitata e non possono trovare altro che insegnanti e altri alunni quindi si sta tranquilli cosa che possono fare anche da casa anche alla primaria in ogni modo noi si è avuto abbiamo avuto 598 messaggi insomma in tantissimi bambini che volevano scrivere dopodiché abbiamo fatto dei meeting online ve l'ho detto i primi tempi erano incredibili l'anno scorso frutto della pandemia abbiamo organizzato dei meeting regolari sia tra insegnanti se vedete quello che ho messo era fatto d'aprile era il terzo meeting tra insegnanti sia con i bambini questo non l'ho fatto io quello con i bambini era fra la Croazia e la Turchia e se si vede le facce dei bambini sono state cancellate però se vedete evidentemente questi erano in dad perché ci sono tutte le faccine dei bambini sono attività che sono gestibili e per esempio anche per noi ora non si riferifererà spero ma non avete idea di essere in dad e incontrare partner quanto è più divertente e come tutti vengono rispetto a quando vedono me che cerco di animare ma insomma lo sapete come sono le lezioni in dad e poi ve l'ho detto piccole attività collaborative per ogni step per esempio questo era che oggetto porterei con me e l'attività collaborativa è una work cloud che è stata fatta con un mentimeter abbiamo chiesto a bambini con un telefono con un computer con quello che avevano di accedere a questo sito e di scrivere in inglese il nome dell'oggetto che avrebbero portato con sé e poi l'abbiamo fatto tutti nel corso di una mattinata ho proiettato alla lavagna la nuvola e si vedevano arrivare le parole dei partner e la nuvola è stata questa come potete immaginare se vedete mobile ovviamente l'oggetto più portato è phone è il telefono tutti hanno pensato al telefono però non vi dico qual è l'entusiasmo dei bambini nel vedere che appaiono le scritte che vengono da loro partner mentre per esempio per le presentazioni abbiamo usato un padlet e poi con il padlet ci abbiamo fatto un ebook piccole cose che possono fare anche i ragazzi anche i ragazzini di prima media questo è un altro era un ebook perché un altro step era quello un libro che porterei con me e qui abbiamo fatto delle piccole presentazioni dei libri e ci abbiamo fatto un ebook ecco fate conto che ognuno di questi step che sono stati soltanto mi sembra quattro in tutto l'anno quindi gestibili uno dei due mesi ognuno di questi era accompagnato da una serie di incontri abbiamo fatto l'oggetto ci siamo incontrati con i partner e ognuno diceva l'oggetto che avrebbe portato con sé è un piccolo lavoro collaborativo ma collaborativo davvero per esempio un altro era una parola che porterei con me la parola che porterei con me abbiamo fatto una presentazione google condivisa l'ho condivisa a tutti gli insegnanti gli insegnanti l'hanno condivisa con bambini e bambini ci scrivevano le parole nella loro lingua e poi ogni tanto andavamo a vedere quello che avevano scritto gli altri quindi sono piccole attività che ci fanno vedere che i partner esistono davvero e che non sono solo fotografie che vengono messe lì e poi il piacere di costruire qualche cosa insieme abbiamo usato tanto google drive documenti condivisi per parlare in inglese ma hai usato la collega di lingua e ci siamo messi d'accordo volta per volta su cosa lei voleva fare per esempio alla primaria non l'hanno fatto l'oggetto che porterei con me hanno fatto io porto con me I take with me così i nostri dicevano I would eccetera e è stato insomma un progetto dove abbiamo sentito siamo stati accompagnati ecco dalla presenza dei partner il prodotto finale banalmente abbiamo usato thing link un bambino ha fatto questo trenino ha disegnato il trenino ogni vagone rappresenta una tappa di questo viaggio e poi con thing link abbiamo messo i link a tutte le cose quindi un vagone il vagone porta bagagli un vagone il vagone passeggeri un vagone c'è anche il vagone cucina dove i bambini si consigliavano che piatti mangiare quindi semplicemente abbiamo assemblato il lavoro questo era un progetto molto semplice e quello di ora quello di quest'anno lavorare insieme per davvero quest'anno è sull'educazione civica si chiama school for all una scuola per tutti stessa cosa i partner sono alcuni di quelli della volta precedente e semplicemente i partner riflettono sulla sulla scuola abbiamo iniziato con i problemi che ci sono nella mia scuola e i bambini si sono incontrati raccontandosi che problemi c'erano abbiamo fatto dei sondaggi cosa cambieresti della tua scuola eccetera abbiamo fatto degli incontri online e ci siamo scambiati delle lettere questa volta dal vero e poi il secondo passo era la scuola che vorrei e quindi prima le cose negative poi le cose positive e poi faremo come è rappresentata la scuola nelle nostre cosa dicono le nostre costituzioni della scuola quindi la parte più più di educazione civica e vi faccio vedere e poi concludo e lascio i dettagli a Annalisa vi faccio vedere ecco una cosa di cui tenere conto all'interno dei progetti io suggerisco sempre di mettere una pagina che riguardi proprio l'e-safety cioè piccole cose dove si spiega ai ragazzi come collaborare online in una maniera civile è una cosa di cui c'è bisogno non tanto attenzione a non trovare il luco cattivo online che va detto ma che non è forse tanto pertinente ai twining ma come mi esprimo non si fanno flame non si litiga si scrive in una maniera che sia comprensibile all'altro attenzione ai fraintendimenti parlare online non è come parlare dal vero sembrano sciocchezze ma i nostri bambini non lo sanno e nemmeno i ragazzi più grandi e una partner molto carina si è inventata un quiz e i bambini si sono divertiti a fare questo quiz e ecco questo è stato quello che noi abbiamo fatto come ci muoviamo all'interno creare uno spazio che sia accogliente innovativo beh innovativo nella misura sì nella misura in cui è ancora innovativo lavorare insieme con i partner che sono lontani poi ovviamente se siete fortunati avete una scuola che fa Erasmus e addirittura ragazzi li potreste riportare a viaggiare quello sarà un passo in più però quando tornano a casa possono rimanere in contatto così eh va bene allora aggiungo un'ultima cosa c'era una signora che una collega che scriveva i prodotti individuali delle scuole dove li metto ecco effetto vetrina dove ogni scuola mette il suo non è bellissimo sarebbe meglio che le pagine fossero per i prodotti fatti insieme io quando i miei partner producono tanto hanno anche ragione ehm faccio una una pagina che chiamo something more about the partner schools qualcosa in più sulle scuole partner gli faccio fare una sottopagina e nella sottopagina ci buttano tutto ciò che vogliono perché ogni tanto si trovano partner che ci mettono anche le foto di carnevale quando magari non c'entra nulla nella foto di carnevale però è piacevole vederli ce li fa conoscere meglio eh io quindi creo una sezione che sarebbe l'off topic eh i prodotti individuali mettetemeli qui tutti qui le altre pagine sono per la collaborazione e ora ripasso la parola a Annalisa ok spero di essere stata chiara sì sì chiarissima volevo ehm sottolineare questa cosa del codice di condotta è fondamentale anche io lo consiglio di creare all'inizio del progetto quindi proprio di scriverlo di creare un documento nella una pagina apposita nel Twin Space dove ehm si si decide si decide ehm insieme con gli altri docenti qual è il codice di condotta che bisogna eh avere in nel Twin Space in Twinning quindi è una pratica davvero molto utile allora prima di andare avanti rispondo a un paio di domande ehm qualcuno dice sono un neossunto e sto svolgendo un progetto Twinning sul patrimonio del proprio territorio perfetto questo eh può valere eh per quella cosa che avete detto di fine anno penso ehm che si riferisca a quello che avevo detto io prima sì ora io purtroppo non posso condividere oggi il mio schermo ma potete andare a cercarlo nella circolare inviata dal Ministero c'è proprio eh uno degli strumenti per svolgere l'attività eh che deve svolgere il neoassunto è proprio il progetto e-twinning eh e quindi può essere valutato eh a fine anno questa attività si presenta anch'io l'ho fatto quando sono stata neoassunta eh ho fatto ho presentato una relazione su un progetto e-twinning che avevo realizzato quell'anno e la commissione che mi ha giudicato ha valutato quel progetto quindi molto molto bene si può fare benissimo eh per quanto riguarda i temi dell'educazione civica sono tutti i temi dell'educazione civica non ce n'è uno in particolare dalla cittadinanza eh digitale alla costituzione eh tutti i temi dell'educazione civica vanno tutti benissimo noi ne abbiamo fatto uno sui diritti umani ora il progetto che sto portando avanti quest'anno è sulla partecipazione democratica alla alla vita europea quindi tutti i progetti tutte 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 le tematiche dell'educazione civica allora scusa scusa se ti interrompo analisa c'è un c'è un gruppo sull'educazione civica ora ve lo non mi ricordo il nome insomma e lì trovate le buone pratiche trovate ve lo ve lo metto ora nella chat d'accordo così lo vedete esiste un gruppo c'è un gruppo anche per sì esiste un gruppo anche sul PCTO eh per cui perché anche quelle sono sono delle attività che si possono svolgere in cleaning ok trovando delle scuole affini come indirizzo della nostra scuola per cui si possono svolgere nelle 40 ore che noi abbiamo alle superiori da realizzare in classe non oltre gli stage nelle aziende quindi si può si possono realizzare progetti cleaning sul PCTO allora andiamo avanti con qualche slide e poi rispondiamo a qualche altra domanda alterniamo un po' e un po' ok allora il Twin Space ecco il Twin Space quindi come vi ho detto prima l'area di lavoro abbiamo quindi il primo portale abbiamo tre interfacce praticamente il primo portale è quello che vi ha mostrato Laura dove si trovano anche se non si è iscritti si possono trovare kit tante tante informazioni il secondo la seconda interfaccia è quella dei Twin in live dove ci sono varie opzioni per trovare dei partner per lavorare nei progetti per trovare dei gruppi lo sviluppo professionale così via e infine c'è il Twin Space nel Twin Space quindi vedete ci sono varie voci home page pagine materiali forum meeting online e i membri dunque l'home page è appunto la prima pagina che che si vede diciamo la vetrina la vetrina del del progetto ogni tanto sento una voce ma non capisco e anch'io non so cosa sia ok quindi nel Twin Space potete vedere bacheca insegnanti qui lateralmente quello è il punto dove gli insegnanti si comunicano anche fra di loro e per esempio fanno sapere se c'è qualche attività che è stata terminata se è stata aggiunta una nuova pagina insomma è un modo per per scambiarsi il proseguimento diciamo del progetto vai avanti Laura ecco quindi vi dicevo la bacheca degli insegnanti usata per comunicazioni e abbiamo poi invece dall'altra parte sulla sinistra la possibilità di aggiungere dei post dove si possono caricare anche delle immagini anche qui per mostrare l'avanzamento del progetto vai avanti queste slide sono tutte molto veloci poi abbiamo la sezione materiali nella sezione materiali si possono caricare ci sono tre voci immagini video e documenti è molto importante caricare i materiali prima di inserirli nelle pagine per inserirli nelle pagine li dobbiamo prima aver caricato nella sezione materiali nella sezione materiali ogni scuola si può creare la propria cartella e quindi poi ritrovare sempre nella propria cartella tutti i file che ha caricato vai avanti ecco poi abbiamo le pagine si possono creare quante pagine si vogliono non c'è un limite si possono archiviare se non vanno bene ma una cosa molto importante è che ci sia anche un certo ordine nelle pagine del Twin Space cioè magari si iscrive il titolo come vi faccio vedere qui in questa slide online seed 2021 quindi per il safe internet day e poi tutte le sottopagine ogni scuola che partecipava a quel progetto ha scritto ha creato la propria sottopagina dove ha inserito le sue attività ecco qui per esempio questa era la pagina del copyright esatto molto bene grazie premendo su crea una pagina si sceglie no no va benissimo scusami sono andata troppo veloce no 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 non ti preoccupare va bene va bene allora premendo su crea una pagina si sceglie un titolo si può creare appunto come vi dicevo prima una pagina principale o una sottopagina nelle pagine si possono inserire vari elementi per lavorare si possono inserire dei sondaggi dei pannelli virtuali su cui scrivere altri e altri contenuti puoi scorrere ecco questa era proprio la risposta a quella domanda di prima quando si crea una pagina bisogna dare ovviamente delle opzioni a questa pagina chi la può vedere solo io i membri del Twin Space o su internet allora inizialmente la vedete solo voi perché così in questa maniera la create la sistemate come volete poi quando è pronta cliccate su membri del Twin Space per cui la pagina non è più draft ma diventa visibile a tutti tutti ci possono lavorare quando poi avete terminato il progetto completamente potete renderla visibile a tutti su internet in maniera tale cioè nel senso l'agenzia nazionale che poi dovrà valutare il vostro progetto se voi vi candidate per il quality label l'agenzia nazionale la potrà vedere potrà valutare la vostra pagina se appunto resa visibile a tutti chi può modificare questa pagina questa è un'altra cosa molto importante io consiglio per la mia esperienza che la pagina possa essere modificata solo dagli insegnanti e dagli insegnanti amministratori se rendiamo anche gli alunni abili a modificare dobbiamo stare molto attenti perché gli alunni potrebbero anche per errore lo possono fare anche gli insegnanti possono sbagliare anche gli insegnanti non sbagliano mai però diciamo capita spesso magari ci stanno un po' più attenti capita spesso ok quindi è sempre meglio che siano gli insegnanti non gli alunni a meno che non abbiate degli alunni di cui vi fidate particolarmente che gestiscono le pagine ricordatevi sempre di salvare le modifiche altrimenti non avete fatto niente lavoro perso ecco qui questa è la pagina dove si può inserire il contenuto si possono aggiungere pagine web immagini video i materiali che sono stati precedentemente caricati appunto nella sezione materiali si possono aggiungere video ma solamente quelli di youtube o di vimeo queste sono le uniche possibilità che abbiamo si possono incorporare ovviamente questi questi video o altre pagine web si possono incorporare ora vi farò vedere come qui ho messo una freccia per modificare la pagina c'è l'icona della mattichina si clicca sulla mattichina e si modifica la pagina quindi si attenzione perché se si clicca invece sulla sul cestino voi cancellate completamente la pagina e soprattutto se ci sono già i lavori dei vostri colleghi stranieri diventa un po' problematico ecco andiamo ancora avanti ecco per incorporare le pagine web bisogna prendere il codice embed e scrivere solamente la parte che è compresa fra le virgolette del del formato src ok quindi se voi andate volete incorporare un padlet un video qualunque qualunque file qualunque sito web su cui state lavorando qualunque strumento digitale su cui state lavorando c'è sempre di solito tutti hanno il codice embed c'è il link l'url e si può caricare l'url altrimenti vedrete direttamente la pagina del padlet per esempio visibile a tutti caricando questo src questo questo codice che si trova all'interno delle virgolette ok andiamo avanti poi abbiamo visto il forum dove si può collaborare e comunicare su varie tematiche questa è un'altra opzione del twin space si crea una discussione e tutti partecipano a quelle discussione poi abbiamo la parte importante dei membri ok come si caricano gli studenti invita membri si si sceglie si scrive il nome il cognome dello studente e quella sarà la sua il suo username e poi si decide una password per lo studente una cosa molto importante segnarsi tutte le password perché quelle poi non sono più visibili non si possono più ritrovare se vi dimenticate una password ne dovete ricreare una nuova si può modificare la password il docente lo può fare però insomma come consiglio è sempre bene segnarsi tutte le password e poi darle ai ragazzi quindi invita membri lo stesso si può fare per l'agenzia nazionale per esempio un visitatore si può invitare o qualche docente esterno o qualche genitore insomma si possono invitare delle persone esterne al progetto sempre in questa maniera scrivendo nome e cognome e automaticamente si genera poi la username come vedete ultimo accesso se guardate la slide c'è scritto ultimo accesso 610 2020 2010 2020 quindi si può anche vedere gli studenti con che frequenza partecipano entrano nel Twin Space e svolgono le attività che abbiamo chiesto loro di fare andiamo avanti ecco per i meeting online l'abbiamo detto prima i meeting online sono organizzati dai docenti quindi gli studenti non possono devono passare attraverso i docenti cioè il docente proietta sulla lim il il meeting e gli studenti parleranno in questa modalità non possono come state facendo voi in questo momento non è possibile che ci sia ogni studente singolo ma la docente sempre per una questione di privacy per tutelare gli studenti allora dunque vediamo se posso rispondere a qualche altra domanda ci sono proprio due domande specifiche che ti volevo girare una appunto sulle alternative diciamo alla videoconferenza per cui alla videoconferenza in e-twinning quindi se ci si vuole incontrare la Laura parlava di Meet e cioè loro utilizzano Meet e voi per esempio tu per esempio hai usato altri strumenti o ritieni anche tu Meet uno strumento anche io ho usato Meet con gli studenti sempre preferibile perché uno di Google è stato uno degli strumenti che è stato consigliato e permesso dal ministero Teams e Meet queste erano le due le due possibilità poi magari c'è qualcuno che usa anche Zoom però secondo me è meglio Meet e Teams e poi un'altra domanda sì anche perché aggiungo che diciamo negli anni da quando siamo partiti con la didattica a distanza e quindi con l'utilizzo diciamo un po' pioneristico delle piattaforme in modo istituzionale nelle scuole sia Google Google Meet che Microsoft Teams si sono arricchiti di molte funzioni anche di protezione ulteriore dei dati delle immagini eccetera per cui insomma io concordo totalmente sia con Laura che con Anna Lisa un'altra domanda era relativa all'utilizzo del forum nello specifico tu ne accennavi la collega o il collega chiede quando si crea un dibattito nel forum del twin space si può partire da un video da un articolo come funziona esattamente certo si parte nella pagina si crea la pagina intitolata con quell'argomento che si vuole trattare nella pagina si carica il video o si carica un documento che si vuole far leggere ai ragazzi e poi si crea la discussione che viene rimandata direttamente al forum per cui i ragazzi possono rispondere cioè non si carica il video nel forum il video si carica nella pagina e poi sotto al termine della pagina scorrendo verso il basso si può rinviare alla discussione nel forum che avviene nel forum scusate io ho visto una non su richiesta mia dentro possono comunicare o con la chat che purtroppo la chat non funziona benissimo però la chat è carina e è scaricabile alla fine il docente la può scaricare e quindi si vede anche cosa si sono detti si possono scrivere sui rispettivi profili così come farebbero su qualsiasi social possono scriversi sui profili c'è la messaggeria interna però io direi che il modo migliore sono ho le videoconferenze e torno a dire è vero che Adobe fa la videoconferenza solo per il docente certo perché a quella opzione l'alunno non può partecipare ma è giusto che sia così perché se no ci verrebbe per esempio il problema che io ho con Meet quando ho gli alunni a casa è che se facciamo una ripresa sotto gli alunni c'è scritto il loro nome e cognome e sopra c'è la loro faccia insomma non è proprio il massimo della privacy quindi eTwinning è pensato per muoversi da classe a classe mette in comunicazione le classi sopra si possono fare delle attività che li fanno collaborare e con gli strumenti un po' che sono stati visti e che ci ha fatto vedere soprattutto Analisa e le linee guida di eTwinning sono non uscire dai eTwinning se vuoi mantenere la sicurezza poi uno fa quello che vuole però ovviamente la sicurezza è garantita lì dentro perché come avete visto e ve l'ha fatto vedere Analisa gli alunni sono tirati su dall'insegnante gli insegnanti sono verificati che siano insegnanti e tirano su i loro alunni quindi non ci può essere nessun altro che insegnanti o gente che ci ha messo dentro l'insegnante quindi si sta sicuri un'altra sempre su questo genere era vorrei qualche consiglio su come strutturare le pagine non ho mai usato il sondaggio è utile o ci sono delle applicazioni più efficaci fuori dal TwinSpace quando è bene inserire il TwinBoard allora queste sono domande collegate allora TwinBoard è esattamente uguale a Padlet ma se avete bambini tutti dentro il TwinSpace va benissimo usare il TwinBoard qualche volta capita che ci sono bambini piccoli nella primaria che il TwinSpace non lo gestiscono bene non lo sanno usare bene allora io uso il Padlet e faccio l'embed come va fatto vedere incorporato nella pagina come va fatto vedere Annalisa perché poi do il link e al Padlet si può sul Padlet si può scrivere anche senza fare l'accesso ai Twinning sostanzialmente senza essere registrati il sondaggio è utile sì è utile stesso discorso è utile del sondaggio interno se tutti i bambini o i ragazzi sono iscritti all'interno del TwinSpace e allora usano il sondaggio se no io ho usato Mentimeter e mi sono trovata bene perché perché anche questo è un link che posso discutere all'esterno e che può utilizzare anche chi non è chi non è iscritto al TwinSpace è bene averci bambini sopra ma a volte l'età non lo permette insomma ecco dipende un pochino come con chi state lavorando insomma tutto qui sono completamente d'accordo con Laura assolutamente non invogliare i ragazzi ad avere rapporti ad avere rapporti al TwinSpace cerchiamo di farli rimanere nel TwinSpace di farli lavorare nel TwinSpace non Instagram no non va bene anche perché direi come si è sottolineato più volte questi sono strumenti che non sono controllati non controllabili tra l'altro facendo questo tipo di lavoro insegniamo c'è un ritorno pazzesco nell'audio non so chi sia col microfono aperto dicevo facendo questo lavoro con i ragazzi si fa capire loro quanto sia opportuno e considerare di volta in volta il contesto in cui si lavora per cui qualsiasi strumento non va bene per fare una qualunque attività ma ci sono degli strumenti e dei contesti più adatti al lavoro che si fa in quel determinato momento purtroppo il problema del contesto è un problema che ai ragazzi di qualsiasi età sfugge in modo particolare perché evidentemente o non glielo spieghiamo bene noi o non glielo spiegano bene i genitori per cui direi che è molto importante abituarli a lavorare in un certo modo anche con un certo metodo la domanda che viene fatta in rosso sotto Laura e Annalisa voi parlavate di codice di condotta avete delle dritte da dare per quello che riguarda dei moduli già fatti in realtà non sulla piattaforma sulla piattaforma si parla di codice di condotta ci sono spiegate tantissime cose ma avete qualche suggerimento? Noi lo facciamo ecco sì noi lo facciamo fra parte no ognuno fa anche noi l'abbiamo fatto l'abbiamo deciso di noi c'è sulla piattaforma eTwinning c'è comunque una sezione dove si parla del codice di condotta si può prendere spunto da quella ma comunque sono anche poi delle decisioni ognuno per il proprio progetto conoscendo magari c'è qualcosa che per me può essere più importante e per un altro no insomma quindi è bene prendere accordi con il partner anche lì noi abbiamo condiviso un documento di Google e ognuno ha scritto le cose che riteneva necessarie inserire nel codice di condotta quando siamo arrivati a una decisione comune allora abbiamo poi caricato il file nel TwinSpace in maniera tale che tutti gli studenti lo potessero leggere allora allora sicuramente sicuramente la condivisione è una delle cose più importanti e più anche interessanti di questa modalità di lavoro anche perché le modalità anche di gestione degli strumenti digitali cambia davvero da paese a paese da scuola a scuola io ricordo che in ogni scuola come ormai sappiamo tutti c'è un animatore digitale c'è un referente bullismo e cyberbullismo che si occupa anche di queste questioni non solo ma c'è anche un referente per la privacy a cui rivolgersi e con i quali con tutti e tre interagire quando si lavori appunto con i ragazzi della propria della propria classe della propria scuola quindi conviene sempre in queste cose sentire un parere di più che un parere di meno e già all'interno della propria scuola capire per esempio le scuole dovrebbero essere dotate di una e-policy e di un documento che riassuma un po' i criteri di condotta e di gestione in questo ambito anche nella gestione dei dati delle immagini eccetera per quello che riguarda per esempio le autorizzazioni all'utilizzo delle immagini dei ragazzi esiste diciamo una regola generica che è quella di ad esempio poter utilizzare l'immagine purché sia all'interno di un gruppo e non sia la persona ripresa sia all'interno di un gruppo e non sia ovviamente ripresa in primo piano io per quello che mi riguarda suggerisco sempre di evitare il più possibile le immagini o di utilizzare delle immagini che non siano necessariamente immagini di volti ma né di gruppo né singolo evidentemente ma utilizzare usando la creatività e anche qui lavorando sull'utilizzo delle immagini perché non è vero per niente che i ragazzi sono dei bravi fotografi dei bravi tecnici di video dei bravi montatori di video sanno diciamo semplicemente un po' diciamo lavorare con le dita sulle tastiere ma il nostro ruolo in questo è fondamentale e tra l'altro potrebbe essere anche il tema di un lavoro molto interessante anche qui sul imparare utilizzare le immagini in modo consapevole in modo corretto le domande diciamo grosso modo sono ce ne sono diciamo avete risposto a tutte le domande grosso modo io non so se volete aggiungere qualcosa altrimenti io andrei alla chiusura perché sono già le 18.30 i temi sono molti e voi siete state veramente esaustive quindi non so se volete aggiungere qualcosa in chiusura Laura e Annalisa io ringrazio e siamo grazie che siamo rimasti in cento praticamente fino alla fine quindi grazie a tutti e buona serata spero di esservi stata utile spero di postiate al più presto iniziare un progetto e tuning e così provare la gioia di vedere i vostri ragazzi contenti di poter comunicare interagire con i loro pari in Europa questa è la cosa più bella che ci fa andare avanti quando vediamo che i nostri studenti sono contenti e quindi anche l'atmosfera nella classe è perfetta insomma è perfetta è rilassata e si può fare qualunque cosa grazie a tutti c'era una domanda avevo visto se questo webinar sarà caricato ecco sì sì allora io in chiusura riprenderei un po' il tema del del webinar del prossimo webinar ci sarà la prossima settimana più precisamente il 23 febbraio sempre alle ore 17 un webinar dedicato a come creare un buon progetto e come diventare Twinning School saranno con noi sempre Annalisa Di Piero e questa volta Simone Simone Bionda e i webinar sono tutti caricati su YouTube e quindi sul canale YouTube Twin in Toscana e tempo tecnico di scaricare il file e di fare alcune correzioni delle immagini dei nostri amici che non sono riusciti a diciamo non utilizzare la webcam dovrò fare un po' di video editing e però insomma appena mi sarà possibile lo caricherò io sul sul canale YouTube Twin in Toscana quindi nel ringraziare Laura Maffei e Annalisa Di Piero non solo siete state chiarissime ma siete state fonte di ispirazione con esempi molto molto pratici il che è sempre una cosa molto utile e ripeto molto per sottolinearlo perché sempre più si fa teoria e poca pratica invece qui siamo entrati nel dettaglio e anche nel valore trasversale di tante cose no? degli safety dell'educazione civica dell'innovazione nel lavoro quotidiano nello stare insieme io saluto tutti e ci diamo appuntamento alla prossima settimana grazie mille Laura grazie mille Annalisa e a presto a tutti a presto ciao a tutti ciao buona serata buona serata buona serata grazie